buongiorno a tutti oggi andremo a preparare un arrosto di maiale con pancetta affumicata nella nostra pentola a pressione multifunzione frigitrice ad aria di master pro by carlo cracco per questo arrosto di maiale andremo ad utilizzare una lonza di circa 300 grammi che andremo a lardellare con della pancetta affumicata quindi andiamo a coprirla tutta bene con le nostre fette di pancetta in maniera uniforme sia sul lato che sull'altro possiamo procedere quindi con la cottura del nostro arrosto apriamo il coperchio e azioniamo la nostra macchina in modalità rosolare andiamo ad inserire il nostro pezzo di carne e lo facciamo rosolare su tutti i lati una volta rosolata la nostra carne la andiamo a sfumare con del vino bianco una volta sfumato tutto il nostro vino bianco andiamo a chiudere il coperchio ed impostiamo la nostra pentola sulla cottura frigitrice ad aria per 25 minuti terminata la cottura possiamo mestrare il nostro arrosto dalla macchina e procediamo con il taglio possiamo procedere quindi con l'impiattamento e completiamo infine con un po' di fondo di cottura grazie a tutti grazie a tutti